La regione Abruzzo, in sinergia con la Ruzzo Reti, ha annunciato che a seguito dello sblocco di un vecchio accordo di programma quadro datato 2003, ora sarà possibile far fronte alla cosiddetta emergenza, grazie alla possibilità di captare risorse idriche sui monti della Laga e sulla montagna dei fiori. La Val Vibrata, sotto questo punto di vista, si appresta dunque a mettersi finalmente alle spalle una serie di criticità affiorate in passato, visto che la regione ha destinato 1,2 milioni di euro per la realizzazione del progetto, a cui si vanno ad aggiungere le oltre 800 mila euro messe in campo dalla società acquedottistica. Importanti benefici dell'opera non saranno limitati solo a la Val Vibrata, in quanto la disponibilità di almeno 100 litri di acqua al secondo in più permetteranno di non dover distogliere risorse idriche da altri territori per compensare i disagi presenti in Vibrata causati in particolar modo dalla siccità in estate. Un grande risultato che aspettavamo ormai da 16 anni, il finanziamento del 2003, si era in qualche maniera impantanato nei meandri della burocrazia regionale, grazie a questo governo, grazie all'impegno del sottosegretario D'Annuntis che congiuntamente agli uffici della Ruzzoreti e a quelli dell'Ersi sono riusciti finalmente a dare il via ad un progetto che aspettavamo da tanto tempo e che darà soluzioni alle crisi idriche costanti che si verificano nella zona della Vibrata e quindi saranno circa dai 100 e 200 litri d'acqua al secondo in più che andranno ad eliminare completamente quelli che sono i problemi di carenza idrica che si verificano a causa della siccità in estate e del gelo in inverno. Un'importantissima risposta per la costa, ma adesso le tempistiche? Le tempistiche sono già indicate nel disciplinare di concessione che è stato firmato qualche settimana fa e vedono che il progetto dovrà arrivare a compimento e arriverà a compimento entro il 2021, quindi meno di due anni.